Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio, ho 24 anni e sono il titolare di Alporno in via Mazzini 17 qui ad Alghero. Il nostro lavoro si svolge principalmente con il pane e poi una vasta ricerca di prodotti tipici sardi. Col pane collaboriamo con due panifici, uno è il panificio Rio qui di Alghero e l'altro è il panificio Kirchi di Olmedo. Abbiamo un marchio di riconoscimento pane fresco dato dalla regione Sardegna. Siamo i primi qui nel nord di Sardegna ad averlo. Cos'è il marchio pane fresco? Il marchio pane fresco è un marchio sinonimo intanto di qualità ed è una lavorazione di pane omogenea. Cosa vuol dire? Il pane non ha celle frigorifere, celle di lievitazione ma è impastato e infornato nello stesso momento e poi rivenduto come pane fresco. Lavoro con Antonio anche perché mi piace molto come persona intanto perché ha una ricerca di prodotti di qualità che combacia molto con il mio pensare a livello lavorativo. E poi abbiamo il pane comune intanto di tutti i giorni, quale può essere il classico panino, la rosetta o la tartaruga, tutta lavorata con farina del grano duro del parco di Portoconte. Mentre il mercoledì e il sabato abbiamo del pane del parco sempre di Portoconte con lievito madre e farina di grano duro Caralis. Abbiamo diversi tipi di pane con lievito madre, il sabato lavoriamo col pane del grano Senatore Capelli, abbiamo il pane del panificio di Via Nazionale di Villanova, tutto lavorato con lievito madre, tutto pane tipico. Poi ci spostiamo un pochettino e abbiamo anche dei prodotti sardi, quale la salsiccia, l'olio, la fregola, la pasta sarda, il pane carasau, dei dolci sardi. In questo momento, in questo periodo soprattutto le frittelle, le chiacchiere, le castagnole, tutte rigorosamente di pasticceria artigianale. Quindi c'è una ricerca del prodotto e una selezione che ne va poi della qualità al consumatore finale. Sono molto contento più che altro di collaborare con Antonio, ci sono delle belle idee perché lavoriamo molto a chilometro zero con i prodotti del territorio. Momentaneamente però abbiamo un buon riscontro, un ottimo riscontro direi perché si è voluto tornare un pochettino alla tradizionalità del pane algherese, come la focaccia detta a cocca o il papugnat, il pane casereccio, sempre con lievito madre, lupa orit, lupa dedaus, tutti i prodotti messi sulla tavola, tutto a chilometro zero. Una filiera corta che va dai terreni della Nurra al molino di macina di Rio, alla pietraia e poi fatta da algheresi che lavorano nel panificio di Olmedochirchi e poi portata di qui al forno. Abbiamo tenuto, ripeto, questo marchio regionale, ci ha dato per me intanto un grandissimo riconoscimento perché ci sono quattro anni che gestisco questa attività e finalmente si inizia ad avere un riscontro positivo. Se volete gustare un pane di qualità selezionato, vi aspetto qui a Dal Forno, in via Mazzini 17, Alghero.